Arriva dal paese più alto dell'isola un abbraccio verso tutti i comuni con questo interessantissimo convegno in cui si sviluppa il nuovo piano di protezione civile integrato. Si è una giornata di studio, di approfondimento sulla pianificazione del piano di protezione civile intercomunale e questo oggi è lo strumento che hanno a disposizione i comuni dell'isola per poter pensare veramente ad un'azione congiunta in caso di emergenze, in caso di calamità, ad azioni ecco integrate, soprattutto mettendo a fattor comune quelle che sono le risorse che ciascun comune ha e soprattutto facendo delle scelte che vadano anche ad ottimizzare proprio le risorse finanziarie da mettere in campo qualora dovessero diciamo sopraggiungere delle emergenze. Quindi oggi è una giornata che ha visto l'importantissima partecipazione del capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale l'ingegnere Curcio, ma il direttore della Protezione Civile Regionale, il dottor Giulivo, il dottore D'Angelo coordinatore sempre della Protezione Civile Nazionale. Quindi una serie di interventi veramente importanti che ci hanno spiegato effettivamente che cos'è la protezione civile come funziona e come deve essere anche redatto un piano di protezione civile che funzioni. Tutto questo è stato possibile grazie all'organizzazione della struttura commissariale con a capo il commissario delegato alla ricostruzione all'emergenza frana Onorevole Legnini. Noi come comune di Serrara Fontana abbiamo messo a disposizione questa struttura per poter tenere questo importantissimo convegno. Ricordiamo che sono collegati tecnici ed esperti da tutta Italia, oltre mille collegamenti. Quindi veramente è una giornata molto molto importante per la nostra isola. Ricordando infine che la protezione civile siamo in primis noi cittadini, poi le autorità, le istituzioni, i mezzi, gli uomini che fanno il soccorso. Ma, come c'è stato anche detto, nel caso di calamità, di emergenze, c'è un tempo nel quale noi cittadini siamo soli, lì a fronteggiare la catastrofe, la calamità. Ed è proprio in quel tempo che noi cittadini dobbiamo sapere come comportarci, fino a quando poi arrivano le persone che sono deputate a darci il soccorso. Quindi un approfondimento oggi importante, ma che spero proseguirà anche per tutti gli anni a venire. E questo lavoro, diciamo certosino, che deve essere fatto dalle amministrazioni comunali sulla sensibilizzazione dei cittadini nell'adozione di comportamenti donnei.